raga stamattina volevo parlare di quel film ormai visto da tutti e parlato da tutti magari forse io sono l'unico che non l'ho ancora visto sto film sto parlando del film mare fuori però ragazzi qualche scena io l'ho vista su instagram tiktok ragazzi io sto vedendo un sacco di ragazze facendo quella scena di rosa ricci io sono rosa ricci e te viene proprio spontaneo che quando dice io sono rosa ricci e cacamo non voglio dire parolacce quello che voglio dire io ragazzi cioè a chi li consente questi video a chi li li produce già sti uagnone soffrono da malavita paccazza l'ho più voi gli fate vedere queste scene questi film sti uagnone se ne vanno e che ho poi l'altra cosa bella è la canzone dove fa ma nemmeno di te spar ma che parola ma nemmeno di te spar 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 ma nemmeno di te zappa pur ca perché quella è quello che ti meriti cioè ragazzi io quello che vedi caduto chiunanza siamo e più ci roviniamo come la bu salva ovvio ti ovvio sta gioventù a fangio vedere sti film io ero un sacco ogni acropea ie acropea